Guido Roberti, appena terminata questa Triestina-Arezzo, 2-2, a mio avviso Guido ha un risultato giusto per quanto ha visto in campo, anche perché la Triestina ha fatto poco. Sì, un risultato giusto e amaro perché ci aspettavamo un altro tipo di gara da parte della Triestina, l'Arezzo di Stellone ha sorpreso probabilmente tutti cambiando modulo, per la prima volta ha adottato un 3-5-2 che cronicamente, storicamente noi soffriamo, ma la bravura stava nel trovare le contromisure anche in corsa. Chiaramente hanno inciso i due infortuni occorsi a Daniele Offredi, il primo clamoroso in particolare con un gol subito piuttosto particolare, un calcio di punizione dalla linea del fallo laterale. Anche sul secondo 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 me c'è una responsabilità, seppur bravo in questo caso l'autore del gol pinna a superare la barriera che come diceva un nostro collega è cosa rara in Serie C su calcio di punizione, non per questo però si possono cancellare gli alibi. È una squadra che oggi aveva il compito di cercare il primo magari di due successi consecutivi in casa e non l'ha fatto, è mancato il ritmo e soprattutto non è piaciuta credo un po' a tutti la parte finale di gara quando la Triestina non ha dato proprio l'impressione di voler cercare i tre punti e anzi va detto che a rischiare di vincere è stato l'Arezzo con una conclusione di Di Paolo Antonio e altre soluzioni, un destro di Cerci a lambire il palo. Dunque troppo poco, una partita sicuramente in involuzione, forse il gol di Lepore aveva un po' mascherato alcune cose a Verona dove siamo stati indubbiamente anche penalizzati dalla direzione arbitrale, quello che vuoi, però continuiamo a subire troppi gol e questo è un limite troppo grosso per una squadra con ambizione d'alta classifica. Da salvare c'è sempre questa capacità comunque di reagire perché sai sotto 1-0 la pareggi, vai sotto 2-1, lì poteva essere anche un momento di contraccolpo. Era fortunatamente ancora amico il cronometro con tanti minuti da giocare e lo abbiamo fatto. C'è da maturare, c'è da lavorare molto, rischiamo oggi virtualmente di aver perso il quinto posto se pensiamo che il Cesena di fatto ha quattro partite meno rispetto a noi e i punti di vantaggio sul Cesena sono pochi. E dunque è un'occasione sciupata, bisognerà necessariamente vincere con il Gubbio per cui oggi purtroppo non c'è il sorriso al termine della partita, qualcuno forse ha sperato in un miracolo come con Levi Spesaro, non è arrivato e non sarebbe stato oggettivamente meritato. Migliori in campo, arriva in doppia cifra Guido Gomez, 10 gol, sempre presente, è mancato un mese ed è mancato tanto. Ultima nota, c'è la panchina anche, tante volte forse si potrebbe anche cambiare di più, allena l'antica il buon Bepi con pochi cambi, quasi non ci fossero i 5, secondo me in certe partite si può provare a usare di più, non spetta a noi insegnare a nessuno però ecco magari un po' più di variabilità da questo punto di vista può dare anche qualche risorsa nuova all'unione in una fase in cui le partite saranno a ritmo serratissimo.